Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che comincia il suo 2015 youtubico con un video che non rientra ancora nella normale programmazione del canale che spero un giorno di poter portare a compimento. Nonostante questo io comunque volevo proporvi questo video quest'oggi, il 9 gennaio, anche se poi voi lo vedrete il 10. Perché? Perché quest'oggi è uscito l'albo di cui vado a parlare ed è un albo di cui però vi ho già anticipato qualcosa, vi ho fatto una breve anticipazione nel video precedente che era il video di riassunto e recap delle cose che più mi erano piaciute del 2014. E allora voi mi direte, grazie scemo ma se era nel video delle cose che più preferivi del 2014 perché è uscito oggi? Perché tralasciando che ci sono state diverse occasioni per poter avere l'albo in anteprima anche qua a Torino, nel mio caso specifico è stata la stessa casa editrice, la Bao, a volermi omaggiare con una copia in anticipo. E quindi ringrazio la Bao, ringrazio nello specifico Caterina, l'albo di cui vado a parlare è Golem di Lorenzo Ceccotti. Golem che sinceramente, devo essere sincero, mi ha dato delle difficoltà barra messo in soggezione sia nel momento della lettura sia nel pensare a come approcciare questo video, come poter comunicare nella maniera più efficace questo fumetto a voi tramite video, no? Perché? Perché adesso lo capirete parlando un attimo di Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, membro fondatore dei Furono Super Amici, nel senso non che sono morti ma che si sono sciolti. Quindi, che dire, penso che chi lo conosca converrà con me nel definirlo un Poliutropos, così come appunto diceva Omero di Ulisse, l'uomo dal multiforme ingegno, perché la sua capacità artistica spazia in vari settori, perché lui non è solo un fumettista, c'è anche un illustratore, un designer, un web designer, per certi versi anche, anzi, più che per certi versi, è un musicista, se andrete nel suo sito, che per concezione è veramente abbacinante, vedrete che c'è anche delle sue composizioni musicali che fanno da colonna sonora all'albo. E questa sua cultura, questo suo bagaglio culturale, soprattutto nell'ambito dell'immagine, non solo è enorme, e voi direte grazie ma ce n'è tanti, però pochi riescono a assorbire tutte queste diverse suggestioni e a imbrigliarle e a riproporle declinandole in maniere diverse e interessanti. E uno di questi è proprio Ceccotti, che fa vedere questa sua capacità in ogni aspetto di questo albo, che è un albo travagliato, che comunque la sua concezione è nata all'incirca nel 2004, io ho letto alcune interviste che dicevano che appunto è nato questo... l'ideazione di Golem è nata nei periodi del liceo, tra l'altro quando vi dicevo che appunto ero anche in soggezione nel come pensare di riproporvi questo fumetto, via video, è perché mi sono letto anche le varie interviste dei siti di informazioni di fumetto seri, come Fumetto Logica, e mi sono sentito per accottaro più di quanto non sia già di mio. Vabbè, massimo rispetto per chi fa questo lavoro di professione, e io cerco di approcciare nella maniera più tizio qualunquesca in assoluto. E vi dicevo, è stato un albo che appunto ha avuto una gestazione difficile, che ha avuto varie incarnazioni, di cui l'ultima, la definitiva, è questa appunto della Bao. E appunto vi dicevo che questa sua capacità visiva, dice Cotti, si vede in ogni aspetto dell'albo, anche semplicemente dal progetto delle copertine, con questa sovracopertina lucida che ci fa vedere il protagonista con un viso puro, il simbolo della purezza, però a poco a poco quasi mangiato da queste geometrie, delle geometrie che poi si ripropongono in quella che è la vera copertina, appunto, che vi faccio vedere. Ecco qua. Belli questo tratto bianco su sfondo azzurro, no? E tralasciando appunto il bagaglio culturale enorme dal punto di vista visivo, ci sono tutta una serie di riferimenti mitologici, simbolismi, che mi hanno ricordato, probabilmente qualcuno dirà che il paragone è eccessivo, la prima lettura che io ebbi di Watchmen, di Alan Moore, non per temi trattati, non per stile di narrazione, ma per la difficoltà di riuscire a trovare alla prima lettura tutti i simbolismi, tutti i sottotesti, tutte le chiavi di lettura che poi effettivamente la storia ha. In questo caso mi sono trovato nella stessa situazione. È una storia, la storia del piccolo Steno, e anche qua la scelta dei nomi dei personaggi che vanno a richiamare la cultura classica. Steno era una delle... Oddio, non delle Rinni, chiedo scusa, delle... non mi ricordo... Comunque la sorella di Medusa, per capirci. Anche il Golem in sé fa parte della mitologia ebraica. Dicevo, è la storia di questo piccolo Steno che vive in un mondo utopico, in un'Italia, una repubblica fondata sull'amore invece che più che sul lavoro, come dice il presidente Udeis, e in un'Italia utopica in cui le malattie sono state debellate, in cui un bambino può permettersi di stare a casa per malattia per un tumore, però la settimana prossima torna, in cui i grattevinci propongono un giochino per poter vincere un pochettino in più di prelievo, il Bancomat, chiedo scusa, forse l'ho detto male, vabbè, in cui i Bancomat appunto hanno questa cosa del grattevinci, in cui gli specchi di casa, le vetrate della macchina, sono degli schermi touchscreen che ci ricordano di comprare il dentifricio che sta finendo, in cui tutto è in mano, tutti i bisogni sono in mano a 4-5 multinazionali che gestiscono praticamente tutto, un ragazzino che però non vive, soprattutto nel punto di vista del sonno, molto tranquillamente questo mondo e che si troverà involontariamente nella situazione di fiancheggiare quelli che sono dei rivoluzionari. E se io vi raccontassi, continuassi a raccontarvi per sommi capi la storia, probabilmente mi direste ok, ma è un déjà vu, è un topos letterario che abbiamo già visto, è un archetipo che abbiamo già visto e vi potrei dare ragione. Però cosa rende, c'era un mio insegnante della scuola comics che io mi piace ricordare, Chiaverotti, che diceva che da un mero in poi si è scritto tutto. Potrete dargli ragione o meno, quelle sono considerazioni vostre. Però qual è il fattore che rende un topos letterario, un archetipo, un qualcosa di più, una storia diversa? proprio la sensibilità dell'autore, la capacità dell'autore di creare un mondo diverso che ci faccia appassionare, dei personaggi interessanti, insomma, è nel dettaglio. E qua i dettagli ci sono. Facciamo un attimo prima una piccola parentesi sullo stile, che come vi dicevo, è pieno di influenze di tutti i tipi, dei videogiochi, del design industriale, del manga. Probabilmente il manga è la, come si dice, l'influenza che più si vede, più a primo occhio, forse la più semplice, perché nei tratti dei personaggi, nello storytelling, la storia ricorda molto spesso il manga, nello specifico, a me che non sono proprio un lettore vorace di manga, ha ricordato Kazushiro Tomo di Akira e la colorazione, i toni, i personaggi di Ayao Miyazaki, perché sono i primi due che conosco, sicuramente chi ha una cultura più ampia di me nell'ambito dei manga ne saprà trovare altri di riferimenti. Però poi cosa ci troviamo? Ci troviamo anche la street art, ci troviamo queste onomatopee violentissime, dove, caspita era, porca miseria. Per dire, ci troviamo questa splash page così, no? Ci troviamo delle scene oniriche che sono quasi caravaggesche, non perché ci sia arrivato io, me l'hanno fatto notare, guarda che bella questa scena onirica. Mi ha ricordato, per andare più vicini, Carnevale. Comunque, tutta una serie di suggestioni che vengono imbrigliate appunto nell'arte dei ceccotti e che poi vengono ricodificate, perché non è semplicemente un manga europeo per capirci, è il capire un codice, il renderlo proprio e riproporlo con una sensibilità diversa, ed è questa la capacità. E appunto, poi vi dicevo, la capacità sta nel dettaglio, perché oltre appunto al segno grafico, alla codifica grafica, anche proprio la scelta stilistica, il come rendere questo mondo futuristico, questo mondo, questa Italia che fa parte dell'Eurasia, che ha abbandonato l'Euro per usare lo pseudo, anche soltanto nella scelta di come proporre queste tecnologie, di come proporre l'abbigliamento dei personaggi, lo stile con cui la madre veste, che ha praticamente questa specie di collare disegnato, del, guardate qua, per capirci, questo stile, oddio, me la sono persa, scusate, qua c'è la mamma, e qua, eccola qui, che ha la marca del vestito che segue il, il collo del vestito, che ricorda l'Asia, come si dice, poi cosa volevo dire, ecco, poi volevo farvi vedere anche alcuni dettagli di come ad esempio i ragazzini non si passano i bigliettini ma hanno questo schermo touchscreen che gli segna anche i minuti che gli rimangono per distrarsi, 50 second distraction time left, per dirvi anche soltanto questi dettagli che rendono questo mondo lontano dal nostro ma che poi così lontano non è, è una caricatura di quello che c'è già, è un'estremizzazione di quello che c'è già e che potrebbe essere ma poi tralasciando appunto tutto l'insieme visivo anche la storia appunto viene declinata con delle tematiche importanti, la più importante è quella del rapporto dell'uomo con la tecnologia come sapremmo sapremmo gestire noi una tecnologia che potrebbe aiutarci o la trasformeremo in qualcosa di negativo o peggio ancora in mano solo a pochi se ad esempio si riuscisse a trovare un qualcosa che una macchina che riesce a modificare la materia e che ci permette di trasformare la cenere in risorse riutilizzabili a basso costo sapremmo riutilizzarla e dare questa tecnologia al mondo oppure la daremo in mano a poche multinazionali il rapporto tra la come a volte il rapporto con la tecnologia può essere malsano invece che portare benessere e poi anche altri temi come appunto i bambini che comunque sono il fatto che il protagonista della storia colui che cambierà la storia colui che porterà il golem è un bambino l'innocenza e anche questo è un tema molto potente un personaggio molto interessante vogliamo dirci le cose come stanno i personaggi non sono estremamente definiti tranne appunto il protagonista Steno è più una storia di un mondo che una storia di un personaggio ma va bene così un personaggio che a me è piaciuto tantissimo come è stato dipinto è il capo della polizia X che in realtà ha un passato traumatico di poliziotto che si è trovato in una situazione particolare non vi spoiler e che mi ha ricordato un pochettino il crying freeman il sicario che comunque aveva il sentimento e che dietro a questo aspetto grottesco poi lascia trasparire un animo umano non vi vado a spoilerare comunque veramente veramente un'opera interessante e che dire appunto ci sono tutta mi ha lasciato veramente in soggezione perché sia dal punto di vista visivo perché dici cazzo un autore così completo che anche soltanto dal punto di vista dei loghi delle multinazionali ha creato anche soltanto guarda che belli questi loghi no cioè ma che comunque ha una cultura enorme che la riesce a ficcare tutta dentro quest'albo con un immaginario visivo che viene da più da più fonti e dici come posso rendere giustizia a una storia del genere veramente assolutamente da avere altre cose da dire è una storia adesso probabilmente direte perché perché te l'ha dato la casa editrice allora tu devi parlare bene no secondo me è un un fumetto che non avrebbe avuto la stessa ragione d'essere se a gestirlo fosse stata un'altra casa editrice sicuramente ci sono tante case editrici capaci in gambissima tutto quello che volete però la BAO ora come ora è quella che ha la cura maggiore degli albi la scelta della carta del formato della copertina di tutto e devo dire che la scelta della carta la scelta della resa cromatica appunto il progetto grafico di questa copertina lucida con la copertina con la sovracopertina lucida con la copertina opaca veramente massimo rispetto poi ultima cosa ultima ma non per importanza vogliamo ampliare diciamo questo mondo di Golem assolutamente sì e quindi se avete un cellulare dell'ultima generazione con tecnologia NFC NFC insomma quella di near field communication insomma quelle che viene utilizzata anche recentemente sempre ancora ancora non tantissimo comunque sempre di più per pagare col cellulare bene se avete questa tecnologia nel cellulare all'interno cioè questo questo albo ha praticamente un microchip nella sua copertina qua nello specifico che appunto appoggiando il vostro cellulare NFC a questo albo vi darà accesso a tutta una serie di contenuti extra quindi anche diciamo un'esperienza multimediale qualcosina di vagamente simile è stato fatto dalla Marvel con Marvel AR dove in alcune pagine tu avvicini il cellulare e vedi tipo il work in progress della 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 pagina però è una cosa ancora molto molto grezza ancora ancora molto mal sfruttata qua già un pochettino meglio che dire 25 euro un'edizione assolutamente di tutto il rispetto una storia un albo che veramente è una stella ora come ora nel panorama italiano io ve lo consiglio ve lo consiglio veramente anche soltanto per poter vedere come si possa fare un fumetto di qualità che vada a richiamare vari aspetti visivi che vada a attingere da varie culture ed è veramente bellissima la colorazione lo storytelling le scene oniriche veramente veramente massimo rispetto all'RNZ ho detto la mia probabilmente c'è chi l'avrebbe detta meglio sicuramente c'è chi l'ha già detta meglio niente vi ringrazio per l'attenzione tante cari cose ciao cari ciao cari ciao cari grazie a tutti